Assessore, siamo all'interno dell'area di questo cantiere, Piazza Marcolini sorgerà nuovamente completamente riqualificata. Quando partiranno i lavori? Domani la ditta, come vedete, è già stato allestito il cantiere, domani la ditta sarà qui proprio per iniziare a rimuovere quelli che sono gli elementi presenti in piazza, quindi lampioni, sottofondazioni, per poi fare invece tutta una rimozione della pavimentazione e quindi si lavorerà proprio sul duro, sulla parte proprio quella che verrà riqualificata nella sua bellezza, ricordiamo con un finanziamento di 600 mila euro in copartecipazione di spesa con il Comune, grazie a un bando ministeriale che riqualificherà questa piazza proprio alla luce di un luogo culturale prestigioso e con un utilizzo completamente diverso. Che cosa è previsto in questa piazza? In questa piazza appunto è prevista una nuova pavimentazione in Selcino con tre aree e tre isole verdi che sono state create appositamente per salvaguardare quelle che sono le alberature presenti, verranno rimossi i tre piccoli lecci qui al mio fianco e spostati da un'altra parte proprio per favorire un po' quello che è lo spazio poi a piazza che verrà creato, una piccola mon madre fannese, noi la chiamiamo un piccolo salotto che presto vedrà la luce proprio perché i lavori dovrebbero terminare entro ottobre. Ci sarà anche la fontana? Sì, una fontana noi cara che viene appunto dai Giardini Amiani ed è stata riqualificata, restaurata, ricordiamo dall'Icevartistico Apolloni che ringraziamo, i ragazzi hanno fatto un lavoro eccellente grazie anche a dei docenti ma anche a professionisti che li hanno accompagnati in questo viaggio proprio perché la città di tutti è una città partecipata dove ognuno deve dare il suo contributo e lo dà con grande generosità. Invece i parcheggi verranno recuperati? Allora, per quanto riguarda i parcheggi, al momento i parcheggi dei disabili sono già stati riposizionati da due settimane, uno in via Malvezzi, via San Paterniano, via Mura Malatestiana e via Apolloni, quindi ne sono stati creati due in più. In deroga al discorario, appunto i parcheggi potranno, i fruttori di questo parcheggio potranno utilizzare tutti i parcheggi limitrofi, verranno realizzati due dei nuovi posti in via Nini e in via Mariotti, proprio destinati al sopperire di questa mancanza, ma nel frattempo ho incontrato il centro storico che ci ha dato dei suggerimenti sicuramente molto intelligenti e forse possibili, che stiamo valutando in queste ore con l'ufficio tecnico. Quando dovranno terminare i lavori? Per ottobre la piazza sarà illuminata, in tutti i sensi, illuminata di cultura e di persone che la verranno a vivere, ma anche valorizzando quello che è un monumento, lo chiamiamo, per la città, perché Palazzo Marcolini è un luogo caro da dove nasce anche la nostra storia.